Buon salve a tutti signori e bentornati su Tecnico, l'unico canale tech dove c'è il latte della tecnologia. Oggi siamo qui per iniziare una piccola avventura nel mondo bello, particolare e articolato anche, vogliamo dire, del retro gaming. Io oggi siamo qui per parlare appunto del software che uso più spesso su Windows dedicato al retro gaming, ovvero RetroArch. RetroArch cos'è? RetroArch lo sappiamo tutti, è un programma, una piattaforma, un sistema basato su l'inserimento, l'integrazione di vari emulatori che integra appunto più di un sistema emulabile, quindi più console. Si svaria veramente tantissime, dalle più vecchie, quindi le Pong console, fino anche alle più moderne. Mi sembra il emulatore più recente sia il Citra che il 3DS. Comunque, bando recente, andiamo a vedere questo programma, come si scarica, come lo si installa e quali sono i primi settaggi per affacciarci nel mondo del retro gaming su PC. Allora, la prima cosa da fare, in questo caso qua giù, è andare appunto sul sito di RetroArch, basta andare sulla pagina download, cercare la versione dedicata a noi, scarichiamo l'installer, in questo caso 64 bit, vi seguiamo un sistema predico 64 bit, installiamo e il gioco praticamente qui è fatto. A livello di disponibilità di supporto, a livello di come sistema operativo, abbiamo supporto a livello Windows praticamente su tutti. Beh, Linux non ha problemi, abbiamo supporto anche per Raspberry perché appunto c'è il programma LACA che non è altro letteralmente che una modifica per RetroArch. C'è appunto l'app Android che potrebbe essere caricato anche un video a parte, abbiamo supporto anche per quanto riguarda iOS, Apple TV, MacOS, Xbox Series e Xbox One. C'è supporto per entrambe. A livello poi delle PlayStation c'è il supporto sulle portatili in maniera perfetta anche su PlayStation 2. Manca il supporto PS3 e PS4 che non credo che arriveranno ormai perché come in sung da anni, su Switch, le console Wii e Gamecube, 3DS, Steam, appunto si può già scaricare l'applicazione, c'è il web browser tramite Firefox e poi ci sono anche questa parte dedicata a delle console particolari. Una volta aperto il programma ci apparirà praticamente questa schermata che è un altro che la nostra appunto, il nostro menu di navigazione, dove abbiamo appunto menu principale, impostazioni preferiti, cronologia, immagini, perché il programma permette l'acquisizione di screenshot, video, netplay, importa contenuto e l'esplorazione di tutte le ROM riconosciute. Partiamo dal menu principale. Allora dal menu principale possiamo qui selezionare il core dell'emulatore già da caricare subito, cercare un contenuto quindi avviarlo in maniera manuale esternamente. Il nostro menu desktop praticamente è la versione classica, la versione un po' più, diciamo così, più da programma. Da aggiornamento online possiamo letteralmente scaricare i nostri emulatori, quindi praticamente possiamo appunto, faccio vedere una carrellata degli emulatori disponibili per questo sistema, cioè abbiamo tutta la parte dedicata agli Amstrad, agli Arcade, MAME, abbiamo la parte tutta dedicata agli Atari dal 2006, ai Lynx passando dal Jaguar, abbiamo il supporto ai Bandai Wonderswan, poi passiamo appunto alla parte Coleco, Commodore, abbiamo poi tutto il supporto a Doom, il DOS Box, parte di supporto per il Java, il Mattel in Television, il NEC PC Engine, il PC98, il 3DS con Citra, il DS, abbiamo una vasta gamma di scelta per quanto riguarda il Game Boy, prima versione, il Color, idem per l'Advance e che ovviamente include l'Advance di console e anche l'SP, sul Famicom o il NES come voglio chiamarlo, solamente la scelta è bassa di quale capire quale più vi piace ma alla fine uno è uguale all'altro sul NES, si può emulare letteralmente con i tostapane, abbiamo la parte dedicata all'inteno 64, quindi si può emulare all'inteno 64, che è molto carina, anzi non è poca cosa ecco, poi abbiamo la parte dedicata appunto allo SNES, quindi al Super Nintendo, abbiamo la parte dedicata poi, ovviamente ci sono 18.000 emulatori dedicati al Super Nintendo, abbiamo anche il supporto che ha il Virtual Boy, cioè la prima e l'unica console virtuale 3D, tra virgolette, di Nintendo, abbiamo poi la parte dedicata ai Quake, che io non utilizzo più perché ormai con il fatto che quelli che sono operati sul Game Pass, questa è una parte che ormai purtroppo non mi interessa più ormai, poi abbiamo la parte dedicata allo SCUM, la parte dedicata alle console SIGA, dove abbiamo appunto la parte del supporto al SIGA, Dreamcast, il Game Gear, Master System, Mega Drive, il CD e il 32X, poi abbiamo quella dedicata all'SG1000, cioè il Saturn, c'è una marea praticamente, poi la parte SNK, approdiamo poi a quella Sony, dove abbiamo appunto una vasta selezione di emulatori PlayStation 1, c'è un solo emulatore PlayStation 2 ma alla fine è il PCSX2, abbiamo anche il supporto alla PSP, l'unico emulatore disponibile che io conosco sul mercato, sulla piazza per l'emulazione, ovvero il PPSSPP, il PPSSPP, ma no, nel 3DO, è uguale alla Supervision e Wolfenstein, cioè la vasta è veramente ampia alla scelta di sistemi da emulare, e oltretutto anche sullo stesso sistema ci sono molti emulatori su cui magari poter scegliere quali utilizzare. Poi ovviamente sotto abbiamo la parte di aggiornamento dedicata appunto ai core che abbiamo installato, basta semplicemente premere e letteralmente il programma farà da solo uno scanning totale di tutti gli emulatori presenti e effettuerà il loro aggiornamento. Andando sotto è possibile praticamente scaricare le copertie degli emulatori, da qui sotto possiamo scaricare tutte le cose dedicate appunto ai contenuti, le risorse, i profili, i database, troppo devo fare una nota che non sono automatici, quindi è cosa buona, magari se è tanto che non lo accendiamo, magari prima di partire a far cimentarsi nella nostra partita di retro gaming, magari fare un aggiornamento male non può fare. A parte dedicata alle impostazioni è un po' più dettagliata, è dedicata più agli smanettoni più che agli casual, non dovreste aver bisogno di metterci mano perché comunque il 90% dei casi le emulazioni o Google emulatori partiranno senza problemi, nel caso ovviamente dovrete cominciare magari a sviscerare le informazioni o comunque i settaggi per capire cosa fa generare meglio cosa, soprattutto dal punto di vista dell'input, controller, la parte del driver video, cioè delle api perché è errato dire driver video, pochi salta letteralmente di parlare di api perché appunto abbiamo il GL, le Vulcan, le RTX sono letteralmente le api, non sono dei driver. Abbiamo tutta la parte accreditata appunto per la registrazione, le midi, il driver del menu, cioè tutte le cose che ci servono per appunto smanettare e settare al meglio il programma in generale. Passiamo adesso però alla parte più che proprio ci interessa, ovvero l'importing del contenuto, ovvero come possiamo avere tutta questa parte qua giù, non è automatica ma è molto semplice, ovvero passare su import contenuto, scansionare la nostra directory, cercare la directory in cui noi abbiamo le nostre ROM e semplicemente basta premere effetto a questa scansione. La scansione varia dal numero delle ROM presenti all'interno e ovviamente dalla presentenza delle stesse, basta semplicemente lasciarlo andare, vi comparirà in basso a sinistra una barra di caricamento e il gioco è fatto. Nel caso in cui non comparisse praticamente il gioco o comunque la macchina, la console che vogliamo emulare qui nella nostra lista, dovremo fare appunto come vi ho detto prima l'avvio manuale, ovvero caricare il contenuto direttamente. In questo caso quindi basta andare su carico contenuto, andare come per la creazione dell'importazione dei contenuti, andare nella nostra cartella e di conseguenza iniziare a scegliere, qual è la console che manca e andarla a emulare. Niente di grave, quindi nel senso alla fine è molto semplice. Oh beh, mi sembra di aver dato una paragonica generale del programma in sé per sé. Qui saranno altre puntate in cui appunto parleremo delle singole console con le singoli appunto emulatori per cercare appunto di capire come settarlo, se c'è bisogno di settarlo e che tipo di formato di ROM utilizzare. Ovviamente se avete domande o cose particolari che volete che spieghi nei video, scrivetemi nei commenti e vedremo appunto di portare magari un po' di un contenuto dedicato a quella cosa mirata o comunque di parlarne in maniera più profondita magari appunto nel video che magari racchiude a quel tipo di argomento. Quindi ragazzoli, se il video è piaciuto lasciate un commento e mi piace, condividete questo video ovunque e vi ringrazio ancora a tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Grazie.